Continuano gli sbarchi a Lampedusa e in poche ore sull'isola sono approdati 158 migranti intercettati su quattro barchini dagli uomini della Guardia di Finanza. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi fa il punto sul fronte ai migranti e rivendica i risultati del governo Meloni. In quattro mesi scongiorati circa 21.000 arrivi da Libia e Tunisia e sul rischio di possibili infiltrazioni di estremisti tra i migranti non bisogna fare allarmismi, dice il ministro che plauda l'operato delle forze dell'ordine e capaci di individuare le persone a rischio al momento dell'ingresso sul territorio nazionale. Grazie a tutti.